Come faccio a diventare ricco? Parte 4. Cosa possiamo imparare dei ricchi? Per la serie vuoi diventare come qualcuno? Beh, vedi come lui lo è diventato. Se prendiamo i dati dei billionaire census possiamo dedurre un po' di cose. Invece che stare lì a guardare le cose che non hanno in comune, andiamo a vedere cosa hanno tutti in comune, o la maggior parte di loro. Tutti quelli che non sono diventati miliardari grazie a un'eredità lo sono diventati perché hanno fatto qualcosa per gli altri. In che senso qualcosa per gli altri? Nel senso che o per chi hanno offerto dei servizi o per chi hanno venduto dei prodotti hanno fatto qualcosa che qualcuno ha acquistato. Quindi non hanno generato la loro ricchezza da se stessi o stando chiusi in casa. Ma hanno fornito qualcosa agli altri e questi li hanno ripagati. Da questa ricchezza generata poi, o perché lo sapevano o perché sono fatti aiutare da terzi, hanno iniziato a gestirle e a farla crescere. La stragrande maggioranza di loro comunque continua a farsi un culo tanto per generare nuova ricchezza o comunque gestire quella che ha già generato. Perché i soldi non si gestiscono da soli. A domani!